I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, coordinati dalla Procura della Repubblica presso tribunale di Treviso, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni soggetti gravemente indiziati della rapina in abitazione commessa la sera del 9 agosto 2021 in Altivole, provincia di Treviso, ai danni di due anziani coniugi, i quali, sotto la minaccia di due coltelli, sono stati costretti a versare ai malviventi la somma di 4.000 euro in denaro contante.